Tempo di auguri natalizi, ma anche tempo di bilanci, di chiusura dell'anno, di sguardo al futuro, al 2024. Lo facciamo con la presidenza degli agenti marittimi, Giorgia Bucchioni. Allora, cosa richiede la vostra associazione? Ma innanzitutto questo è un momento importante, come ha detto lei, di bilanci, di auguri, anche di fare un pochino il punto di quello che è stato quest'anno e quello che sarà probabilmente l'anno prossimo. È stato un anno per noi nel porto della Spezia abbastanza complesso, segnato da diversi eventi, da diversi cambiamenti, da flessione dei traffici durante i primi mesi dell'anno, che si sono un po' ripresi durante l'estate, ma che non sono ancora a livello auspicabile. L'anno prossimo è previsto un qualche miglioramento, diciamo però che in un quadro mondiale molto complesso, molto complicato, il sistema Spezia sta tenendo e sia gli operatori, il cluster marittimo, insieme all'autorità portuale, alla Capitaneria di Porto e al Terminal, stanno cercando di reinventarsi e di riprendere quello che era stato un po' un tema di sistema e quindi di coesione anche del porto della Spezia nel nuovo anno, che sicuramente io credo porterà buoni risultati. La sfida oggigiorno, qualsiasi sia il lavoro che uno svolge e nel momento in cui si fa impresa, non può prescindere da quello che è il tema dell'inclusione dei giovani, delle nuove generazioni e anche delle nuove professioni. Questo è un tema importante perché nel momento in cui noi cerchiamo di essere più attrattivi, di più appeal per i traffici, è chiaro che abbiamo bisogno, per stare sul mercato, di essere anche come aziende più competitive. In questo momento si stanno già vedendo dei riflessi legati proprio a quello che sta accadendo al canale di Suele. Sì, sicuramente questo è un tema attualissimo, un tema molto preoccupante, un tema che se dovesse andare avanti obbligherà a ripensare tutto quello che sono il sistema, non solamente di traffici, di approvvigionamenti, ma diventa proprio un tema economico, oltre che chiaramente di sicurezza per la prima, che comporterebbe ripensare completamente quelli che sono delle location strategiche che da sempre hanno fatto il mercato marittimo. Quindi insomma il canale di Suez è la porta d'ingresso e di passaggio. Abbiamo ben visto che cosa è successo quando la nave si incagliò, immaginiamo ora questo momento e solo i tempi e anche i costi esorbitanti a cui andremo incontro dovendo modificare le rotte.